Il presidente dell'Associazione Nazionale dei Commercialisti del Capologo Ibleo, Rosa Anna Paolino, si rivolge al garante del contribuente della Sicilia per segnalare quanto sta accadendo in questi mesi ai professionisti ma anche agli utenti che non riescono ad accedere negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa o a comunicare in via telematica con i funzionari. Di fatto comunque il disservizio non consente ai consulenti di lavorare o ai cittadini di risolvere le loro problematiche portando a compimento le loro pratiche. I professionisti, e scritto nella nota inviata al garante, lamentano ripetuti e gravi disservizi da parte dell'Agenzia delle Entrate relativi alla risoluzione di problematiche scaturenti da comunicazioni di irregolarità o di avvisi. Le citate disposizioni stabiliscono infatti, spiega il presidente, qualora rilievi, dati o elementi non considerati o errati possono fornire chiarimenti entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Ma ecco che i professionisti lamentano tutta una serie di difficoltà che rendono di fatto impossibile per loro risolvere le problematiche evitando anche successivi contenziosi, con l'aggravio peraltro di tempo, ma anche di costi. Il canale telefonico infatti risulta spesso occupato o disatteso ed è poi impossibile prenotare appuntamento. Una situazione questa che è stata segnalata anche alla direttrice dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, Cristina Frattaruolo, ma niente è stato risolto ed anche per questo adesso l'Associazione Nazionale dei Commercialisti di Ragusa ha scelto di segnalare il disservizio al garante regionale.